Operai comunali al lavoro allo stadio San Francesco per consentire alla nocerina di giocare domenica la partita casalinga. Dopo le foto circolate su Facebook l'amministrazione comunale è corsa ai ripari. Ieri è stato tagliato quello che resta del prato, oggi via le erbacce e i rifiuti dal piazzale degli spogliatoi. Sistemati anche i servizi igienici della tribuna, l'unico settore che domenica sarà aperto al pubblico, ma le ferite di un periodo di abbandono restano soprattutto sul campo di gioco che presenta evidenti macchie gialle, segno di erba rinsecchita. Il sindaco Torquato, anche egli amareggiato, parla di mancata semina e non è d'accordo con chi sostiene che non c'è stato alcun controllo e manutenzione da parte dell'ufficio tecnico comunale. Però nessuno ha controllato che qui effettivamente si facesse quello che si doveva fare. No, questo lo dice lei che nessuno ha controllato. No, no, assolutamente le attività comunali vengono controllate dal personale, il problema era relativo, ripeto ancora una volta, all'ultima fase manutentiva perché altrimenti guardi se da quando si è smesso di giocare non si fosse fatto nulla noi non avremmo il campo così, sarebbe impraticabile, non avremmo la struttura così, sarebbe impraticabile. Però io vorrei anche che un po' di cittadini, magari gli stessi tifosi ricordassero quando c'è stata la convenzione ancora impagata, lo ripeto, per tre anni da parte della società con la città di Nocera, col comune di Nocera, è stato portato via dalla società precedente quasi tutto, mi dicono addirittura una lavatrice perché era della società, insomma non ho visto grandi gesti di ribellione. Domenica si gioca qui, gioca qui la squadra, chiariamolo, con la copertura delle polizze, quindi l'ufficio tecnico sta gestendo e ha la responsabilità chiara di questa situazione, con il pagamento dei ticket a partita, dovrebbe fare a sua cura delle attività di pulizia e è chiaro che noi controlleremo anche come viene effettuata la parte che compete più alla nocerina calcio. Poi io dico sempre, se è una società, perché qui noi dobbiamo dire anche un po' di verità, io non vorrei immaginare il futuro e spero di essere smentito, se tutta questa giostra deve andare avanti soltanto per un po' di tempo e poi dovesse magari miseramente fallire soltanto perché si sta appendendo sta storia dei contributi, io non ne capisco, quindi prendete così tra virgolette, quello che dico sarebbe veramente una tristissima cosa, poi vorrei sentire più non lamentarsi nessuno. Io ho sentito molto usare in questi giorni sulla questione del prato, che potete vedere, è un prato regolarissimo, era grosso modo come è sempre stato, forse c'è un po' di giallo in più, ma è assolutamente regolare, altrimenti non si potrebbe giocare e è stata usata a sproposito la parola vergogna. Io di vergogna ricordo solo tutto ciò che è accaduto dal 10 novembre scorso fino alle ultimissime vicende gestite in maniera assolutamente roccambolesca, con spreggio della tifoseria e anche ledendo le immagini della città di Nocera, per una serie di cose che conosciamo tutti e sulle quali non voglio tornare, non voglio esprimere ulteriori commenti particolari.